Archiviata solo per il momento l'idea di ricorrere al tardi Catania contro il governo Crocetta a causa dell'ordinanza vergognosa sui rifiuti, lo staff del sindaco a Corinti con l'assessore all'ambiente di Alacqua porta a casa dal summit di ieri a Palermo un risultato soddisfacente in via transitoria che consentirà di utilizzare la discarica di Motta Sant'Anastasia conferendo l'intero volume di spazzatura prodotto dalla città al giorno. Nell'arco di circa tre mesi ci si potrà mettere in pari con la raccolta differenziata per rispondere alle richieste dell'assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità altrimenti sarà di nuovo emergenza sanitaria. L'incontro di ieri non è stato molto partecipato sui 47 comuni convocati ne hanno partecipato solo tre cioè il comune di Messina, Antillo e Sant'Alessio Siculo e questo mi pone dei problemi su come mai una comunità che è investita tutta nella provincia di Messina non abbia sentito il dovere di partecipare a questo incontro e comunque è stato molto utile abbiamo ottenuto che intanto per una settimana il comune di Messina potrà conferire fino a 350 tonnellate al giorno per rientrare dall'emergenza successivamente il limite che c'era stato posto di 261 tonnellate al giorno che non era sufficiente verrà riportato a 295 circa che è il quantitativo che abbiamo indicato per il periodo estivo. Noi abbiamo minacciato da virgolette un ricorso al TAR perché non bastava una promessa così verbale ma volevamo un atto scritto. Quest'atto scritto intanto è arrivato con la lettera del gestore della discarica ci si è impegnato a livello appunto regionale di modificare questa ordinanza. Mancano però ancora la firma del presidente Crocetta e dell'assessore contrafatto? Sì sì certo noi oggi appunto abbiamo riscritto all'assessorato dicendo che abbiamo avuto questa comunicazione dall'ente gestore che dalla OICOS che su indicazione della regione ha consentito a questa deroga. Abbiamo poi parlato del dopo questa fase e ovviamente se non ci sono gli impianti se non ci si dà una mano su questo la regione fra qualche mese rientrerà purtroppo in un'emergenza ancora più grave.